Don Pierpaoli, siamo entrati nella Settimana Santa. Da domani, 14 aprile, quali saranno le celebrazioni che ci accompagneranno fino a Pasqua nella nostra diocesi? Sì, mi piace quest'anno ricordare la Settimana Santa in questo senso. È sempre il passaggio dall'inverno alla primavera. La Pasqua coincide anche storicamente, in maniera legata alla natura, come un risveglio, un ripartire. Per i cristiani questa è la risurrezione, è la morte e la risurrezione, la morte e la vita si incontrano in questi giorni. Il Vescovo celebrerà i riti, direi quasi unici nell'anno e più importanti dell'anno. Il rito il giovedì santo, quando ricorderà la commemorazione dell'ultima cena e la lavanda dei piedi, come il venerdì santo, poi la adorazione della croce e la grande veglia pasquale nella notte tra sabato e domenica. Questi tre giorni saranno anche arricchiti da segni particolari legati alla storia, a questo nostro tempo, perché Gesù, che muore, che dà la vita e risorge, è legato a tutti coloro che in questo nostro mondo soffrono ingiustizie. In particolare il Vescovo lo fa ormai da anni. Il giovedì santo sarà al carcere di Fossombrone, dove laverà i piedi ai carcerati. E mi piace ricordare anche come il sabato santo pregherà insieme alla comunità ucraina, nella chiesa di San Giovanni Bosco, alle due e mezza, proprio per pregare con i nostri fratelli greco-cattolici in questa Pasqua. Sono gesti concreti che fanno vedere la Pasqua non come una storia passata, ma come un Gesù che continua a morire e a vivere, a morire in tutti i gesti di ingiustizia e a vivere in tutti i gesti di solidarietà che abbiamo intorno a noi e nel nostro mondo. Ricordo questo perché vorrei veramente augurarvi di cuore una Pasqua di risurrezione. Abbiamo bisogno di ripartire e questi momenti, come tutti quelli che abbiamo durante la settimana nelle nostre parrocchie, perché sono tanti i momenti tradizionali, le processioni siano occasioni per ripartire, è un primo passo. Ecco, c'è un proverbio che mi piace tantissimo, se vuoi vincere, se vuoi arrivare prima, primo cammina da solo, se vuoi arrivare lontano cammina insieme. Che questa Pasqua sia un voler camminare insieme con Gesù, che sicuramente sarà per noi la nostra speranza.